Torino Fiore è uno dei tifosi storici dell'Ischia, l'Ischia finalmente torna in C1, ma tu come la vedi quest'anno? Per il momento la vedo molto dura, speriamo con un grosso miracolo, un grosso sforzo sia dai nuovi mister, sia dai giocatori, quelli che verranno, la società principalmente, di poter riuscire a rivedere la C1 forse in tono migliore. Vuoi vedere una C1 migliore? Secondo te è giusto il cambio dell'allenatore? Forse ci voleva anche prima, ma non parliamo né della persona, parliamo di un problema che ormai i giocatori si erano un po' appiattiti, l'ambiente tutto, era tutto stile, i risultati non venivano, per cui ci voleva, il calcio è così. Serve anche qualche altra cosa secondo te, qualche calciatore, qualche rinforzo? Assolutamente, secondo me, qua si parla di chi non attacca, non sono il mister, non sono questo, abbiamo bisogno di due centrocampisti, con una certa esperienza, poi ci vorrebbe anche un attaccante, ci potrebbe volere un difensore, tutto è buono, però principalmente con due centrocampisti che ci facciano giocare, bene o male, per le meno le partite in casa, probabilmente con quelle a pari merito nostro non le perdiamo. Una battuta sulla prossima partita, Ischia Messina, di solito qui al Mazzella l'Ischia non riesce a giocare bene, e non riesce a fare punti. Secondo te, qual è il motivo? Il motivo è quello che dicevo prima, noi purtroppo siamo una squadra che forse... La pressione dei tifosi non c'è anche quello? Ma no, no, anzi, forse proprio, vi vedo quest'anno, come mai i tifosi sono molto vicini, molte volte quando hanno perso, proprio la Francia più, diciamo, che segue i rischi, veramente più è stata molto calorosa, molto da applausi a fine partita, quello proprio no. E' proprio che noi non riusciamo a impostare il gioco quando giochiamo in casa, la squadra si aspetta e ci hanno un paio di giocatori... Una battuta finale, il tuo pronostico sulla gara di domenica? Il pronostico non lo so, ma dobbiamo vincere assolutamente.